ci sembrava giusto operare io ringrazio tutti quelli che lo hanno reso possibile e sembrava giusto riuscire a portare al senato questo quadro che raffigura la persona importantissima che ha dato il nome a questo palazzo perché tutti lo chiamano palazzo madama piazza madama adesso sappiamo il perché e abbiamo anche l'immagine della madama che sarà esposta qui spero che potrà essere anche visitata da chi lo desidera